Tre proiettili e un avvertimento. Stai zitta, non parlare troppo. Sono le minacce arrivate alla vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Valeria Cerambino. Due plichi finiti all'attenzione degli inquirenti. Uno intercettato dagli scanner del centro di smistamento delle poste lo scorso lunedì. Sopra vi era scritto al ministro Valeria Cerambino con l'indirizzo però di Palazzo Santa Lucia. All'interno due proiettili calibro 9. Il secondo è stato di nuovo individuato al centro smistamento lo scorso 17 giugno. Ancora una volta una busta indirizzata alla Capogruppo 5 Stelle con all'interno un altro proiettile calibro 9 e una lettera con l'intimidazione di non parlare. A comunicare le minacce alla Cerambino è stata la Digos. L'esponente politico è stata poi ascoltata in questura a Napoli dove asportò denuncia contro ignoti. Tantissima la solidarietà riversatasi su di lei. I dichiarazioni sono arrivate dal presidente della Camera FICO, dal senatore Sandro Ruotolo, dalla sindaca di Roma Raggi ma anche dall'assessore regionale alla legalità Mario Morcone e dal presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. Nel respingere un gesto inaccettabile ha detto il governatore ribadiamo con forza la condanna e il contrasto deciso alla criminalità, alla violenza e ogni genere di intimidazione. Anche il consigliere Tommaso Pellegrino ha espresso la sua vicinanza a nome di tutto il gruppo Italia Viva. Conoscendo la tenace e la passione politica di Valeria ha detto sono certo che non si lascerà scalfire dal vile episodio, le intimidazioni rafforzano le persone libere per bene. La Cerambino ha commentato con un post su Facebook la vicenda. Tanta solidarietà ha scritto mi dà il coraggio di continuare a battermi, non me ne starò zitta come qualcuno vorrebbe, non me ne fare, ad alzare la voce se sarà il caso di farlo ma soprattutto ad ascoltare e a farmi portavoce di ogni richiesta di aiuto. Oggi mi sento più forte perché so che non sarò mai sola nell'affrontare le battaglie per la nostra terra e per il nostro paese. Andiamo avanti a testa alta e con la schiena dritta, c'è un paese da ricostruire e non possiamo permetterci distrazioni.